Salve, sono Corrado Nicoletti, responsabile Centro Italia per quanto riguarda Yamaha Commercial Audio. Ma è stata una giornata sicuramente positiva, sono sempre delle iniziative crescenti da mettere in piedi, hanno unito la parte Yamaha Motor con la parte Yamaha Music e quindi è sempre un ottimo incontro di cose. Ci sono state in parte persone che già conoscevamo e piacevolmente abbiamo incontrato anche nuove persone che credo siano rimaste piacevolmente colpite dagli argomenti trattati. Abbiamo spiegato la line up sotto il punto di vista tecnico, c'è stata anche una simulazione dei prodotti, quindi una prova d'ascolto in base alle richieste delle persone che erano presenti e poi si è concluso con un test drive finale. Grazie a tutti!